C'è stato un fatto abbastanza grave oggi, c'è la solidarietà del Presidente della Regione, Luca Zaia, ma anche della Presidente, la Premier, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, perché il Presidente dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, è stato aggredito nella qualità della Toscana dove è in corso la campagna elettorale. Un uomo, da quel che si legge, un Novax, si è avvicinato al Presidente Giuseppe Conte con la scusa di stringere la mano e gli ha sferato un colpo al volto. Vi leggo un attimo il comunicato del Presidente della Regione, Luca Zaia, che scrive che il confronto, per quanto acceso, deve essere sempre democratico e rispettoso delle persone. L'aggressione di Giuseppe Conte deve essere condannata senza sé e senza ma. Quanto è avvenuto oggi è un fatto inqualificabile, non degno di un paese civile, sono fatti che non trovano alcuna giustificazione e che non possono essere minimizzati. Ecco, vorrei ricordare che anche qui a Chioggia, durante l'ultima campagna elettorale, c'era una lista di soggetti che speravano di prendere voti, diciamo, con i programmi Novax e una di queste persone, tra l'altro, in lista, in lista, perché un conto che ci sia un cittadino che va via sbrocca, un conto che sia uno che concorra su una campagna elettorale che si è iscritto a una lista, una signora a Vigo, quando c'era Giuseppe Conte, l'ho aggredito verbalmente, dicendo un sacco di fesserie, vorrei ricordare che quella lista non si è neppure classificata e noi di Chioggia Azzura non abbiamo mai voluto pubblicare perché siamo assolutamente contrari a chi cerca di intortare l'opinione pubblica con proclami assolutamente falsi. Purtroppo, purtroppo, c'è chi invece ci riesce a intortare bene ed è anche riuscito anche a tornare in Consiglio Comunale. Sapete di chi mi riferisco. Bella questa maglietta, sapete dove l'ho presa, sì? Ve l'ha data la Katia. Vi presento in questo caso Gonzaga Food, che è un laboratorio artigianale di Mantova, tutta produzione artigianale di altissima qualità. Questi abbiamo una serie di biscotteria, quindi andiamo dai baci di Dama, piuttosto che i nostri meravigliosi tartuffi al rum. I tartuffi al rum sono aromatizzati al rum, quindi la parte alcolica non c'è, quindi vanno benissimo anche per ragazzi o bambini. Sono dei dolcetti al cioccolato veramente molto squisiti. Grazie.